Larezzo gioca a Novara la terza partita in una settimana e dal canto cambia 6 undicesimi di formazione rispetto a mercoledì. In difesa rientra Luciani, Borghini e Varutti sono titolari. In mediana si rivede Tassi sulla tre quarti, fa il debutto assoluto Chechi, davanti gioca Perzano. Il Novara per ritrovare la vittoria interna che manca da sette mesi si affida ai pesi massimi, Eusepi e Cacia in attacco. Larezzo prende in mano la partita, conquista tre angoli ma Di Gregorio resta inoperoso. A cavallo della mezz'ora viene fuori il Novara. Abuglio, Varutti e Pinto rimediano tre ammunizioni nel giro di sei minuti, mentre Pelagotti rischia su un colpo di testa di Bove su azione d'angolo. Sterili gli Amaranto al tiro pericolosamente con Brunori con questa punizione che finisce alta. Il primo tempo sembra chiuso ma il Novara ha il sussulto decisivo. Pelagotti si guadagna un bel voto in pagella alzando sulla traversa un tiro di schiavi destinato all'incrocio. Ma poi sul corner seguente nulla può sulla deviazione ravvicinata di Bianchi che con l'attacco la mette dentro dopo il colpo di testa di Chiosa. Gli Amaranto sono sotto per questo gol segnato dal centrocampista novarese sul filo del fuorigioco. D'accanto nell'intervallo toglie Varutti, ammonito e fa entrare Sala. Brunori instancabile, si conquista una punizione in zona rossa e poi dopo il doppio tentativo di Foglia la trasforma in oro. Stop, torsione e rasoterra chirurgico. Nulla da fare per Di Gregorio. Pareggio Amaranto e terzo gol stagionale per Brunori. I tifosi aretini in trasferta apprezzano. Entra Cutolo mentre il Novara reagisce soprattutto di fisico facendo valere muscoli e centimetri. L'Arezzo si tiene a galla con cuore e generosità ma soffre la pressione avversaria e rischia di tornare sotto quando il diagonale di Cinaglia che aveva sfondato a destra esce a un palmo dal palo. Dal canto allora toglie Tassi e manda dentro Basit. La gara è più equilibrata. Agli Amaranto manca il solito possesso ficcante mentre Pelagotti dice no a un sinistro di schiavi dal limite. All'improvviso ecco la fiammata delle campione. Sala recupera palla e manda Cutolo a sinistra. Il capitano evita tartaglia di classe e poi si affida al suo sinistro di Granito. Di Gregorio non è impeccabile e la palla gli si insacca dietro la schiena proprio davanti al settore ospiti. Colorato da Maranto. Terzo gol in cinque giorni per Nello Cutolo. Sembra finita invece l'arbitro concede quattro minuti di recupero che per l'Arezzo sono fatali. Luciani si fa saltare ingenuamente da schiavi che butta dentro la palla della disperazione. Eusepi fa sponda e bianchi ancora lui a zecca la voleva vincente. Finisce 2 a 2 ed è un pari che lascia l'amaro in bocca. Ma che l'Arezzo si è conquistato con il sudore soffrendo come mai gli era successo in stagione.